Questi involtini di melanzane freschi e saporiti potrebbero davvero essere l'antipasto perfetto. Anzi, lo sono di certo. Iniziate pulendo i fagiolini, eliminando il picciolo e poi sbucciate e tagliate a cubetti le patate. Bollentate i fagiolini in acqua salata, scolateli e cuocete anche le patate. Una volta morbide, trasferitele in una ciotola e conditele con tutti gli ingredienti che vi lascio qui sotto in descrizione. Schiacciate il tutto fino ad ottenere un purè bello denso. Prendete ora una melanzana e tagliate la fette dello spessore di mezzo centimetro, che andrete a grigliare spennellando in superficie con dell'olio. Passiamo ora all'assemblaggio dei nostri involtini. Vi basterà aggiungere un cucchiaio abbondante di curè al centro di ogni fetta, 2-3 fagiolini e arrotolare il tutto bloccando l'involtino con uno stecchino. Condite infine gli involtini con un filo d'olio, della granella di pistacchi per una nota croccante e del basilico fresco.